Sarà la regista neozelandese Jane Campion a presiedere la giuria del prossimo Festival del Cinema di Cannes. Lo hanno annunciato gli organizzatori della 67esima edizione in programma dal 14 al 25 maggio. È un grande onore per me, ha commentato la cineasta 59enne chiamata a succedere a Steven Spielberg. Jane Campion è l'unica ad aver ottenuto due palme d'oro, la prima nell'86 per il cortometraggio di 9 minuti Peel, la seconda nel 93 per lezioni di piano che le valse anche l'Oscar per la migliore sceneggiatura. L'anno scorso a Cannes aveva presieduto la giuria dei cortometraggi e della cinefondazione.